Musica Buonasera E' stato avvistato allo Santos Nuova creatura di bimbo minchia ragazzi Che piuttosto che far follower Si mette sotto mappa e fa le kill alla gente Poi dopo aver fatto le kill alla gente Va a dire in giro che si nascondevano E si mettevano tutti in base Quindi a questo punto La nuova creatura di bimbo minchia E' entrata nel nostro gruppo Dicendoci di non attaccarci Perché ci faceva quittare A questo punto io Gli ho risposto Torna a giocare a Minecraft Perché se tu giochi a GTA Facendo le kill così Devi solo giocare a Minecraft Musica 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 A questo punto il bimbo minchia Si è chiuso in base E dalla base faceva continuamente Appartamento e base Una volta che è arrivato in base Si è messo in passiva Ed è stato circa 40 minuti In questa posizione Ignaro che io lo stavo guardando Dicendo che lui non era neanche dall'orbitale E invece era proprio lì Che voleva farci l'orbitale a tutti quanti Quindi ragazzi in questo caso La voce della verità La vedete coi vostri occhi Il bimbo minchia per fare due follower Su TikTok Ha iniziato a raccontare Balle E si è fatto difendere Dalla ciofeca di GTA E parlo di una persona Che vale quanto la merda Che sta sotto le mie scarpe Pestata da un cane A un tratto si è accorto Che io ero buggato E quindi lo vedevo Quindi si è tolto dall'orbitale Ma ormai la figura di merda L'aveva fatta Quindi ragazzi Io con questa chicca Chiudo Alla prossima Alla prossima